Gli attivisti e le attiviste dell'App Asilo 31 annunciano la loro presenza sabato 22 aprile a Pontita. In occasione della festa dell'orgoglio antirazzista, tanti giovani della città di Benevento saleranno in Lombardia domani notte per portare un messaggio contro le discriminazioni di ogni tipo. In questi ultimi giorni vari gruppi di potere vicino alla Lega Nord hanno provato a intralciare la libertà di espressione di migliaia di giovani. Siamo riusciti oggi ad ottenere il pratone nel comune di Pontita dove si svolgerà la festa antirazzista. A Benevento il problema della diffusione delle idee razziste e xenofobe si fa presente in questi periodi di crisi economica e soprattutto sappiamo bene quanti gruppi di potere legati a quest'ora amministrazione vada a un abbraccetto con organizzazioni neofasciste. Ebbene, noi nei nostri territori non daremo mai spazio a razzismo, a xenofobia e a ogni tipo di discriminazione, né qui né altrove, daremo la possibilità di scatenare stupide guerre tra poveri. Sabato andremo tutti a Pontita, sabato tutti a Pontita a festeggiare con i nostri fratelli migranti, con i nostri fratelli del sud e del nord insieme contro il razzismo, contro Salvini e contro ogni tipo di discriminazione razziale che attanaglia tutti i nostri territori.